ecco adesso scendiamo verso la sorgente di Tulei ecco Maria abbiamo questo spettacolo attenzione dove mettete i piedi chiaramente guardate un attimino quanto è abbondante l'acqua chiaramente è incontenibile vediamo un po' se riusciamo a spezzare un po' in maniera tale che riusciamo questa è la fontana di Tulei che avete anche nel foglietto guardate quanto è ricca d'acqua e poi quante vasche veramente molto bene il sindaco dice che beveva però ecco guardate che spettacolo perché qui è molto sono passata dall'alto